Nella posizione successiva dell'Agenzia per la vita indipendente ONLUS, la dottoressa Cutreira, prego. Sì, grazie Presidente, grazie per l'invito. Auspico che questo mio intervento possa contribuire a inserire degli miglioramenti in quelle che sono le proposte di legge. Da una lettura che abbiamo fatto di queste proposte di legge, abbiamo inizialmente evidenziato che nei testi non vi è cenno alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è stata ratificata anche con la legge nazionale nel 2009. Nella Convenzione ONU, oltre a individuare nell'articolo 12 un trattamento di uguaglianza per tutte le persone con disabilità, esplicitamente con l'articolo 19 prevede il diritto delle persone con disabilità di poter scegliere dove e come e con chi vivere e non essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. E questo è il principio che ha segnato il cambio in un paradigma che mette la persona con disabilità al centro, il proprio diritto di scelta come pregiudiziale per la propria vita. E non è un caso che, ad esempio, il recente decreto del Presidente della Repubblica dell'ottobre del 2013, che ha adottato il programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, riceve i principi della Convenzione ONU e nello specifico dell'articolo 19, laddove nella linea 3 indica la promozione della vita indipendente come azione auspicabile e come linea di intervento in tutte le politiche che riguardino le persone con disabilità, soprattutto nella scelta dei servizi. Il discorso della vita indipendente non può essere liquidato solo come una possibilità in capo a persone con disabilità fisica e in grado di autodeterminarsi, in quanto è il principio di vita indipendente che deve essere applicato anche a persone non in grado di autodeterminarsi, attraverso altre figure, come noi oggi abbiamo, oltre che le famiglie, anche l'amministratore di sostegno. Le persone con grave disabilità hanno un'aspettativa nella loro vita che le rende uguali a tutte le altre, ed è quella di diventare adulti e vivere in modo autonomo e indipendente. Quali sono i destinatari quindi di questa legge? Quelli che noi auspichiamo che possano essere i destinatari di questa legge. Quindi non solo le persone disabili prive di assistenza familiare, intese come persone che si trovano nell'assenza di familiari a causa di malattia o morte o distanza geografica dei familiari, ma anche persone che per libera scelta si sono riscattati dalla famiglia di origine. Quindi un suggerimento è quello di precisare l'ampiezza dell'accezione prive di assistenza familiare, anche per evitare esclusioni ed eventuali controversie di competenza tra il fondo in argomento, quindi il fondo dopo di noi, e quello per la non autosufficienza. A nostro avviso nella platea vanno quindi considerate anche le persone con disabilità grave, prive di assistenza familiare, che coraggiosamente e faticosamente sono già riuscite ad organizzare il proprio progetto di vita dopo di noi, ma per le quali nei test in esame non sono previste soluzioni che garantiscano il diritto di scelta e di auto-organizzarsi la propria assistenza. Mi riferisco all'assistenza in forma indiretta, che potrebbe essere anche una forma garantita e mantenuta anche all'interno delle soluzioni del dopo di noi, anche perché ad oggi chi faticosamente vive solo, senza familiari, contando sull'assistenza indiretta, rischia di vedere naufragare il proprio progetto a causa dei continui tagli sulla disabilità. Ma soprattutto nel novero delle persone con disabilità prive di assistenza familiare, con necessità di sostegno intensivo, non possono essere dimenticate le persone attualmente istituzionalizzate, per le quali devono essere previste soluzioni di tipo abitativo, rispettose della libertà e dignità della persona all'interno della comunità di appartenenza. Sarebbe paradossale se un provvedimento legislativo di tale rilevanza ignorasse tali persone disabili. Si tratterebbe di fatto di una discriminazione. Gli stessi principi della Convenzione non fanno distinzione rispetto alla gravità, ma privilegiano il concetto di persona al centro con i propri bisogni e gli interventi a supporto della residua autonomia. Quindi devono essere anche queste persone incluse nella società. E la raccomandazione viene anche dalla strategia europea 2020, che proprio indica e sollecita i processi di transizione dall'assistenza in istituzioni all'assistenza nella collettività, anche con l'utilizzo dei fondi strutturali. Per quanto riguarda le misure innovative da proporre rispetto a quanto già previsto dall'attuale normativa, l'associazione che qui rappresento, che aderisce a Disabled People International e al Network Europeo dell'Indipendent Living, ENIL, ha come obiettivo la promozione della filosofia della vita indipendente, che nel nostro caso si concretizza nell'impiego di assistenti personali regolarmente assunti dalle persone disabili e retribuiti grazie a contributi direttamente erogati dagli enti e locali in base all'articolo 14 della 328, quindi del 2000 progetto individuale, della legge 162. Quindi siamo persone che viviamo in autonomia grazie a un budget personale che però purtroppo non è sorretto da impianti legislativi omogenei e definitivi, ma che trova collocazione giuridica in delibere regionali e comunali che sono precarie in quanto sono condizionate dalle risorse dei rispettivi bilanci. Ci sono delle leggi che riguardano la vita indipendente e l'assistenza in forma indiretta, ma riguardano solo le regioni Abruzzo e Molise. Ma nonostante tutta questa difficoltà ci sono esempi di persone già prive appunto di familiari che sono diventate protagoniste della propria vita e che continuano in assequia al principio nulla su di noi, senza di noi, a voler sperimentare questi progetti di vita indipendente. una nota positiva rispetto a questa volontà di questi ultimi dieci anni in cui con determinazione abbiamo continuato su questo percorso e l'aver visto nel Fondo Nazionale per la Natosufficienza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre scorso, l'aver riservato una minima quota che sono 10 milioni di euro per progetti legati a servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione della società. Quindi possiamo dire che anche nella recente normativa e nella destinazione di risorse questa filosofia di vita indipendente questa possibilità di vivere anche con grave disabilità anche senza familiari in un modo autonomo e indipendente si sta lentamente facendo strada. Brevemente, mi avvio alle conclusioni e ho una memoria scritta casomai quello che non riuscirò a dire lo si può trovare poi nel documento depositato. Secondo noi i servizi da implementare devono essere sicuramente rivolti a interventi che favoriscano la transizione ripeto, dall'assistenza in istituzioni all'assistenza nella collettività anche attraverso la predisposizione di un piano nazionale per la deistituzionalizzazione. La seconda priorità è quella di prevedere sempre attraverso il fondo anche utilizzando quindi le risorse del fondo sul dopo di noi quindi avviare interventi di assistenza autogestita attraverso finanziamenti diretti alla persona nell'ambito del piano di intervento personalizzato avvalendosi di servizi esistenti che supportano forme di assistenza indiretta. Quindi se la persona con disabilità grave vuole e desidera transitario vivere in piccole comunità alloggio in casa e famiglia o condividere la propria casa con altri disabili o non disabili l'approccio dovrà comunque essere quello dell'articolo 19 della Convenzione ONU cioè devono essere inserite nella comunità. Un ultimo proprio riferimento a questa richiesta se siamo a conoscenza di difficoltà relative a donazioni posso solo segnalarvi che la perplessità riguarda il trust semplicemente perché in Italia non abbiamo ancora una legge sul trust e l'altra riguarda la modifica dell'articolo 692 del Codice Civile che tratta di questioni successorie riferite a persone interdette in quanto ad oggi il tema dell'interdizione e il rafforzamento della figura dell'amministratore di sostegno è attualmente oggetto di un progetto di legge che mira proprio a rivedere l'istituzione dell'interdizione. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei dottoresa Cutrella.